Nel corso di un'intervista radiofonica, il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato del futuro di Giampaolo e non solo. Rimane alla Sampdoria? Dove dovrebbe andare? È molto apprezzato, ma è roba mia. Lui ha due anni di contratto ancora, resta qui, ha chiarito il numero uno blucerchiato, dopo alcune voci circolate nelle ultime ore. Sugli obiettivi, l'Europa rimane la priorità. Direi che ce la meritiamo, grazie anche a Giampaolo. Ferrero ha poi commentato la situazione di un suo ex giocatore, Patrick Schick, ora in forza la Roma. Fidatevi di me, è un campione, ha assicurato il presidente. Gli avevo consigliato di rimanere un altro anno da noi per prepararsi al meglio ad affrontare un ambiente bello e complicato come Roma. Lui ha cominciato la sua avventura in giallo-rosso con un ambiente ostile nei suoi confronti. Io ho parlato con Schick, lui si è trovato male e in questo anno e mezzo ha giocato fuori ruolo. Lui è un trequartista, una seconda punta, eppure fino ad ora ha giocato in posizioni diverse. Massimo Ferrero sottolinea come il problema possa essere psicologico. Gli si è spenta la lampadina, ha affermato. I giocatori di oggi a 20 anni guadagnano già 2 milioni di euro, hanno macchine importanti, sono ragazzi che si montano la testa.